Nel quarto centenario della nascita del teologo francese Blaise Pascal, Papa Francesco ha firmato la sua nuova lettera apostolica dal titolo Sublimitas et Miseria Ominis, nel giorno in cui il 19 giugno del 1623 in Francia nasceva l'infaticabile ricercatore del vero. Grandezza e miseria dell'uomo formano il paradosso che sta al centro della riflessione del messaggio di Pascal, scrive nell'incipit della sua missiva apostolica il Santo Padre che lo descrive come un uomo che fin da bambino e per tutta la vita ha cercato la verità. Quattro secoli dopo la sua nascita Pascal rimane per noi il compagno di strada, sottolinea il Papa, che accompagna la nostra ricerca della vera felicità e secondo il dono della fede il nostro riconoscimento umile e gioioso del Signore morto e risorto. Poi prosegue e commovente constatare che negli ultimi giorni della sua vita un pensatore così geniale come Blaise Pascal non vedesse altra urgenza al di sopra di quella di mettere le sue energie nelle opere di misericordia, l'unico oggetto della scrittura e la carità. Pascal rappresenta un faro della costellazione spirituale di Papa Francesco, come ha spiegato il prefetto del di Castero per la cultura e l'educazione cardinale nel corso della conferenza stampa di presentazione della lettera in sala stampa vaticana. L'opera più conosciuta del teologo francese è la raccolta di frammenti Le Pansy, uno dei grandi capolavori del pensiero occidentale. Bergoglio è da sempre innamorato dei pensieri, ne conosce, ne cita alcuni a memoria, ha rivelato il prefetto della cultura ed è profondo ammiratore di Pascal e così ha dunque deciso di onorare la sua figura con una lettera apostolica. Nel testo della missiva il pontefice ha sottolineato alcuni aspetti forse meno noti del grande filosofo, prima di tutto la sua carità verso i poveri e gli ammalati, infatti la vita di Pascal fu costellata da pratici gesti di carità e di amore verso i più deboli e verso gli infermi e i sofferenti.